Oh, e Juan Jesus s'è ricordato di essere but one. E chiedete scusa a Zerbin. Chiedete scusa a Pavel Zerbin. Però va ufrosi non, ufra, che è meglio così. Il ciolito, il ciolito, il ciolito, la 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 la. Il ciolito, il ciolito, il ciolito, la 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 la. Stracandidi di YouTube, ben trovati in questo venerdì particolare. Perché ieri il Napoli ci ha strappato un sorriso. Magari non siamo stati belli da vedere, non siamo stati esteticamente meravigliosi, ma siamo stati efficaci, siamo stati compatti, siamo stati tutti d'un pezzo. E abbiamo tenuto bene il campo, se non qualche piccola imprecisione, ma ci sta con un modulo nuovo, un modo di giocare diverso rispetto a quelle che furono le convinzioni che ci hanno portato in alto, ma tutto sommato segnali positivi tanti. Qualche nota negativa c'è, è innegabile, ma tornano i sorrisi, torna il buon umore, torna la voglia di giocare a calcio. Magari non in tutti, ma nella maggior parte. Prima di parlarne e di addentrarci nei voti dello stracandido, quindi in quelle che sono le pagelle stracandide, mi raccomando, un like di supporto al canale, non ve lo dimenticate, lasciate un commento, che prometto di leggere, non so se riuscirò a rispondere a tutti, ma ci provo, e soprattutto, iscrizioni al canale, con la campanella, così non vi perdete niente. Cominciamo. Allora, Gollini, sei e mezzo, non tanti interventi, a dire il vero, però, una sicurezza, le uscite, il richiamo ai propri compagni, quindi, il fargli capire quando c'è il pericolo, quello che Gattuso chiamava annusare il pericolo, Gollini lo fa, e poi, offre anche la possibilità ai propri compagni dell'appoggio coi piedi, spostandosi anche all'interno dell'area di rigore, per riuscire a garantire un giro palla che è diverso rispetto a prima, perché se tu hai la difesa a tre, non hai solo i due centrali più uno degli esterni che si abbassa, ma ne hai ben tre di centrali che si muovono, magari riescono a favorire lo Botka che se lo viene a prendere, l'esterno che si abbassa, quindi, tante possibilità che Gollini riesce quasi sempre a soddisfare, quindi, bene il pergollo che si conferma su alti, altissimi livelli. Un 6 al capitano, perché a me piace il fatto che questo ragazzo sia un ragazzo intelligente, tatticamente impeccabile, chiaro che se dall'oggi al domani tu lo metti a fare il braccetto di destra nella difesa a tre, qualcosa gli può sfuggire, e siamo sinceri, qualcosa gli è sfuggito, però le stigmate del capitano ci sono, uomo di personalità, uomo sicuramente spogliatoio, uomo che riesce anche a farsi capire dai propri compagni, e poi non ce lo dimentichiamo, che l'assist del raddoppio arriva dalla sua testa, perché il colpo di testa che poi manda in porta Zerbin, in tutti i sensi, perché Zerbin finisce in porta, è il suo, quindi la sufficienza la raggiunge proprio per questo, perché la partita in per sé non è stata irreprensibile. C'è un bel sette di reparto agli altri due, Rachmani e Juan Jesus, di Rachmani vi dirò è il mio migliore in campo, anche se darò voti più alti ad alcuni, ma quello che mi ha dato buone sensazioni è proprio lui, chissà che il gol segnato contro la Salernità nel recupero non gli abbia acceso qualcosa dentro, perché la prestazione di questa sera ragazzi è mostruosa, perché qualche imprecisione di Lorenzo è lui che va a tappare il buco, c'è stata qualche imprecisione alla parte di Juan Jesus ed è lui che è andato a tappare il buco, non ha faticato granché tenendolo sempre bene Beltran, poi quando Nzolà è andato dalla sua parte Nzolà ha chiuso ovunque, qualche piccola imprecisione e incostruzione, ma d'altronde lui non è Kim, lo sappiamo benissimo, però non possiamo pretendere di avere tutto, l'importante è che sappia difendere e questa sera l'ha fatto egregiamente, 7 a Juan Jesus che è tra i protagonisti della vittoria di ieri, perché la discesa che fa servito da una genialata di Quara e il pallone che canta che mette a Simeone che poi fa un gran gol è davvero una gran cosa, finalmente un bel Juan Jesus perché anche ora c'è qualcosa da rivedere ma non è che c'è qualcosa da rivedere è che non ci dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di Juan Jesus anche quando fa una prova molto positiva quindi noi ci dimentiamo a commentare la partita di ieri e allora il 7 ci sta tutto però non possiamo dimenticare che è Juan Jesus un bel 6 e mezzo glielo do a Mazzocchi che rientra dopo quella scellerata espulsione a Torino in un modulo che comunque si confa a quelle che sono le sue caratteristiche e fa una bella figura regge bene in spinta appoggia Politano scambia quasi sempre bene nelle triangolazioni di destra con Politano l'inserimento di di Lorenzo in fase difensiva si appoggia bene quando deve andare ad andare a limitare le offensive della Fiorentina non sbaglia nulla nessuna sbavatura poi nel finale esce per un piccolo fastidio non dovrebbe essere nulla di che ma sicuramente sicuramente una prova molto 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 positiva da parte dell'ex Salernitana 6 a Stan Lobotka che ha avuto un compito difficile intanto il centrocampo a due che non è che sia proprio nelle sue corde però era tutto un po' falso perché poi ce l'ha spiegato Mazzarri che nella sua testa il modulo era un 3-3 3-1 quindi è vero che noi lo ipotizziamo come un centrocampo a due del 3-4-2-1 ma visto con gli occhi di Mazzarri i tre davanti alla difesa hanno più logica perché poi effettivamente è così perché Lobotka andava a prendersi il pallone e scambiava con i tre del reparto di centrocampo e non ha perso palloni ne ha recuperati diversi dinamismo importante ha corso tantissimo speriamo che sia solo l'inizio di un ritorno alle origini perché a noi serve Lobotka e serve il Lobotka che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare 5.5 a Cajust forse sono un po' troppo cattivo però ragazzi è un mediano di rottura ormai l'abbiamo capito è uno di quelli che distrugge il gioco degli avversari o prova a distruggere il gioco degli avversari perché nell'impostazione lascia molto a desiderare lascia molto a desiderare negli inserimenti lascia molto a desiderare nelle conclusioni stasera se ne è mangiata una in cui se controlla la palla va in porta poi l'hanno fermato in fuorigioco ma il fuorigioco non c'era quindi se andava in porta e faceva gol quella era gol e la sbloccavamo anche molto prima però ragazzo questo è nel finale si fa male probabilmente è a rischio la presenza lunedì in finale però abbiamo capito che è questo Cajust non possiamo contare su Cajust in un momento della partita in cui dobbiamo fare gioco se però dobbiamo rompere il gioco avversario allora ha la sua utilità 5.5 anche a Mario Rui un po' timido per quelle che erano le mie aspettative un po' timido perché nelle idee dell'inizio del 3-4-2-1 quindi con Kvicia più accentrato mi aspettavo che la fascia fosse il suo spazio da prendersi a tutti i costi non l'ha fatto praticamente mai in fase difensiva qualche imprecisione sia in appoggio che nel tocco nel rilanciare l'azione ma anche nel tenere a bada Iconet tant'è vero che il fallo da rigore se c'è arriva da lui ce ne sono state di difficoltà quindi non sicuramente la migliore prestazione 6 apolitano è tra i migliori ma questo lo diciamo dall'inizio della stagione segna ancora un po' pochino rispetto a le occasioni che si crea ma non è un problema perché comunque il moto che lui ha e che comunque mette in difficoltà spesso e volentieri gli avversari cioè si vede è innegabile le combinazioni che fa con i compagni sono importanti è sicuramente l'uomo in più di questo Napoli che poi sia un bene o che sia un male questo è un altro discorso un altro punto di vista però sicuramente è uno di quelli che si sta comportando bene in campo sempre con continuità se magari anche gli altri cominciassero a girare con continuità chissà 6 anche a Kvarazchelia non voglio essere troppo cattivo perché ho visto pareri contrastanti c'è chi dice che ha fatto una prestazione pessima c'è chi sostiene che abbia fatto una prestazione importante io mi limito alla sufficienza un po' striminzita perché è un po' sparito dalla partita seppur poi la giocata che determina la fa perché è lui che con la sua giocata praticamente avvia l'azione del primo gol con quella genialata che permette a Juan Jesus l'inserimento e poi il passaggio per Simeone che segna però poi dopo è un po' sparito dalla gara oddio ha corso tantissimo e ha sacrificato se stesso per il bene collettivo che poi è la cosa che interessa a noi quindi va bene così Kvicia arriveranno i gol arriveranno le soddisfazioni personali ma il ragazzo c'è è innegabile do un 7 al ciolito Simeone perché poi è vero che il gol spesso ci condiziona nei voti ma non è sbagliato però questo ragazzo ha corso ha lottato ha non solo segnato il gol con una prodezza bellissima ma c'è stata anche un'azione in cui va a chiudere su Icone in area di vigore quindi questo ti fa capire la voglia del giocatore e di fronte a queste scene non puoi che alzarti e applaudire e quando poi devi mettere la mano ai voti il voto non può che essere positivo non giudico le prestazioni di Lindstrom Zelinski Ostiga Regaitano ma non possiamo non celebrare Pavel Zerbin che ieri sera con un otto in pagella chiude i conti con la qualificazione realizza il 2 a 0 rischiando la testa perché ha rischiato davvero di farsi molto male e poi dopo quella botta come è trasformato ruba un pallone a Duncan si invola verso l'area di vigore e poi con un destro potentissimo non lascia scampo a Terraciano e firma il 3 a 0 che chiude i conti Pavel Zerbin è un po' esagerato e soprattutto non serve a cambiare le carte in tavola il ragazzo andrà a giocare a Frosinone come è giusto che sia perché così avrà la possibilità di mettersi in mostra ad un livello più confacente alle sue caratteristiche quindi noi ringraziamo per questo sussulto finale dell'esperienza napoletana però è anche giusto che il ragazzo vada a giocare con maggiore continuità non credo anche che il cambio modulo possa agevolarlo in vista di un possibile maggior utilizzo nel corso di questa stagione c'è il voto da dare al mister Walter Mazzarri 7 premiato il coraggio perché di coraggio bisogna parlare perché tu arrivi a Napoli dicendo di aver studiato il calcio di spalletti che ti piace e lo vuoi riproporre il problema però è che spalletti era un grande esperto in quella che è la spaghettata con le vongole spalletti ha fatto uno spaghetto alle vongole spaventosamente buono l'anno scorso Walter si ha imparato quella ricetta l'ha voluta riproporre però lo spaghetto alle vongole che ci ha proposto spalletti ad un altro livello Mazzarri sa che è un grandissimo esperto del risotto ai funghi lo ha dimostrato nella sua vita e di fronte all'occasione per tornare ad essere preso in considerazione dal mondo del calcio ha provato a proporre la sua versione dello spaghetto alle vongole però è arrivato il momento visto che non viene apprezzato i risultati non erano accettabili è arrivato il momento di far vedere a tutti che anche il risotto ai funghi è buono e lui lo sa fare è la metafora perfetta per il ritorno alla difesa tre che mazzarri conosce a mena dito e anche il fatto di trasmettere ai propri giocatori nuovi principi di gioco può aumentare l'attenzione generale intorno a secchi poi l'abbiamo visto contro la fiorentina abbiamo bisogno di rivederlo con maggiore continuità con altri esponenti perché torneranno anche angissa e usi men e bisognerà vedere se da qualche parte ci sia qualche crisi di rigetto però se le premesse sono queste walter continua per la tua strada come ti avevo detto qualche settimana fa continua per la tua strada non ti metterà paura vai convinto fino in fondo se devi cadere cadi per colpa delle tue idee e non per colpa di idee che ti vengono imposte dall'alto se invece ottieni risultati stracanti di youtube per questo video delle pagelle tutte io vi ringrazio vi saluto vi auguro un buon fine settimana ormai prossimo ci rivediamo nei prossimi giorni per tutte quelle che sono le notizie che verranno fuori per capire se arriveranno anche Ngonjet Traoré Ariad e potranno essere abili e arrolabili per la finale lo scopriremo nei prossimi giorni io vi abbraccio non vi dimenticate che il calcio fa bene alle ossa e marraccoman stata ma buona